Musica Buonasera, buonasera a tutti e bentrovati a un'altra puntata di Artigianando. Buonasera a Carolina soprattutto. Buonasera a te Jacopo. Allora avevamo detto Carolina se ti ricordi che avremmo parlato di un tema centrale, cruciale per quanto riguarda l'artigianato e cioè l'accesso al credito perché chiaramente anche in un tessuto di micro imprese come quello dell'artigianato forse addirittura è più fondamentale che da altre parti e quindi lo facciamo con due ospiti che si occupano prettamente di questo. Esatto, allora abbiamo in collegamento da Brescia Enrico Mattinzoli, presidente Artfili Lombardia e Francesco Gabrielli, direttore generale di Artfili Lombardia. Buonasera a entrambi. Buonasera. Sabato, parto da lei Mattinzoli, sabato primo giugno presso la sala conferenze della sede di Brescia avete celebrato i 50 anni della nascita di Artfili. Abbiamo un contributo audio di quell'evento dove erano presenti personaggi molto importanti tra cui il sottosegretario del ministero del Made in Italy Massimo Bitonci e il presidente della commissione AVI della Lombardia l'avvocato Alessandro Azzi. Volevo chiedere proprio a lei Mattinzoli se ci potesse raccontare in sintesi la storia di Artfili Lombardia. Guardi, proprio l'8 giugno del 74, ovvero quasi 50 anni fa, nasceva la cooperativa di credito e garanzia per gli artigiani bresciani. Un'idea dell'allora direttore dell'associazione artigiani di Brescia, Lino Poisa, che si è concretizzata e proprio i numeri parlano chiaro. Da 41 soci che erano nel 1974, il 2023 ha chiuso con 28.055 soci, quindi numerosi soci in più, molta massa di attività, abbiamo raggiunto i 211 milioni di valori di attività finanziaria e quindi credo che i numeri parlino chiaro. Da allora poi si sono succeduti ben sei presidenti prima di me, tra l'altro l'ultimo ancora in vita e l'abbiamo anche premiato sabato. Abbiamo iniziato questo percorso con una prima fusione tra Crema e Lodi nel 2007 e poi piano piano abbiamo aperto il primo ufficio a Milano nel 2009, 2012 Seveso, 2013 Varese, il secondo ufficio nel 2016 a Milano, poi 2016 sempre Bergamo e l'ultimo nel 2024 Busto Arsizio. In buona sostanza i soci sono cresciuti e i servizi soprattutto ai nostri associati sono migliorati, si sono sempre più qualificati, che poi è il tema e l'obiettivo che noi ci poniamo oggigiorno, dare un servizio sempre più qualificato a questi 28.055 soci che sono praticamente nella regione Lombardia prevalentemente. Ecco, proprio per quanto riguarda la regione Lombardia chiaramente si va anche oltre i confini regionali come operatività, però rimanendo all'interno del territorio Lombardo chiedo al direttore generale Francesco Gabrielli come si muove Artfidi all'interno del nostro territorio. Per noi è fondamentale la presenza territoriale, come diceva il Presidente, abbiamo un'estensione in quasi tutta la regione Lombardia, dove non siamo presenti con gli uffici abbiamo dei collaboratori che operano sul territorio. Perché questo? Perché il confidi ha la necessità di conoscere il territorio e conoscere l'impresa e si basa su questo fatto sostanzialmente. Il dare del credito all'impresa è propedeutico al fatto che si conosca l'imprenditore, si conosca la storia dell'imprenditore, si conosca da dove arriva la sua famiglia, le sue capacità imprenditoriali. E su queste cose si basa sostanzialmente il fatto di credere e di avere la fiducia sul progetto imprenditoriale che poi ci viene presentato per essere finanziato. Quindi c'è una conoscenza appunto di quella che è la realtà e poi un rapporto fiduciario che va oltre quello del credito sostanzialmente. Cioè voi avete un rapporto quasi tra virgolette familiare di conoscenza con i vostri associati sostanzialmente. Questo è un po' il punto, no? Sicuramente sì, considerando il fatto che le nostre sono micro imprese, quindi sono tante volte imprese familiari. Oltre il 60% della nostra base sociale sono ditte individuali o SNC, quindi stiamo parlando di piccolissime imprese dove conta realmente la capacità imprenditoriale e la storia dell'imprenditore. E su questo dove ci si basa tante volte per poter concedere del credito. Invece ritorna lei Mattinzoli. Dopo questi 50 anni di storia del consorzio all'insegna appunto della valorizzazione dei territori e delle comunità attraverso le varie aggregazioni con una crescita costante dei soci. Volevo chiederle come vede la situazione attuale. Ma guardi, per quel che riguarda ovviamente sempre i confidi, restiamo sul tema, il futuro intanto è quello delle aggregazioni. Oggi nel nostro paese ci sono 32 confidi vigilati da Banca d'Italia, uno dei quali appunto è Arfi di Lombardia. e 163 confidi minori. Complessivamente forniamo garanzie per 3,5 miliardi l'anno e sono oltre 900 mila i soci. Il nostro obiettivo è quello di aggregare, ovvero di ridurre il numero dei confidi. Perché questo? Perché è necessario aumentare la solidità finanziaria, diversificare i prodotti e ovviamente raggiungere economia di scala. Oggi vi sono delle attività che se messe a fattor comune, penso alla compliance piuttosto che all'interno all'audit, anzi oltre al riciclaggio, la qualità, insomma vi sono attività che messe a fattor comune creano dell'economia di scala. Questo cosa significa? Minori costi ovviamente per il confidi, si traducono in minori costi ovviamente per i nostri soci. Quindi questo è il nostro obiettivo primario. Allora, ho sentito bene, ovviamente Banca d'Italia con i vari confidi ha un rapporto assolutamente stretto e in questi decenni Artfidi ha continuato a investire sia sul capitale umano sia su quello digitale, nell'operatività sostanzialmente di tutto il sistema dell'accesso al credito. È così? È successo questo? Gabrielli per capirci. Sì, il nostro confidi arriva sostanzialmente nel 2007 a fare tutta una serie di aggregazioni, nel 2009 viene vigilato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che primo confidi in regione Lombardia ad essere appunto vigilato da Banca d'Italia, il fatto di avere un controllo da parte di un ente come Banca d'Italia permette di dare delle garanzie agli istituti di credito e gli istituti di credito danno una ponderazione maggiore a queste garanzie che vengono date e questo poi ricade ovviamente sull'imprenditore che ne beneficia. Quindi sostanzialmente per sintetizzare è una questione sia di fiducia che è maggiore quindi si riesce a erogare maggiormente e più velocemente il credito sia anche di capienza di questo credito, in entrambi i casi agisce questo tipo di vigilanza e quindi questo plus che potete garantire ai vostri associati. Sì, il fatto di dare la nostra garanzia che ha un valore aggiunto per l'istituto di credito vuol dire minori costi per l'impresa perché ovviamente la banca può permettersi di applicare delle condizioni vantaggiose e anche maggiore credito e questo permette appunto all'impresa di poter fare quelli che sono i propri progetti imprenditoriali. Consideri che la nostra media di finanziamento è attorno ai 60 mila euro quindi come si diceva prima stiamo parlando di piccole imprese e mediamente l'imprenditore riceve i denari entro 20 giorni da quando li richiede questo in una percentuale attorno al 60%. Beh, molto rapido alla fine come erogazione, non sbaglio cioè anche perché effettivamente stiamo parlando di imprese che certamente devono fare investimenti e devono essere molto agili nel farlo avendo quel tipo di dimensione ridotta da un certo punto di vista ma non è assolutamente una minusvalenza il fatto di essere una microimpresa però ovviamente deve essere più agile il tutto, penso. Certo, è fondamentale, i tempi sono un plus fondamentale e l'imprenditore di questo sa che con Arfidi lo può ottenere ed ecco perché tante imprese si iscrivono al nostro Confidi. Normalmente le richieste di accesso al credito sono di che tipo? cioè a livello di capienza, a livello di misura, tra virgolette. Allora, mediamente noi istruiamo circa 2000 richieste all'anno per il 60% sono per finanziamenti a breve quindi stiamo parlando di Fido, di SBF e per i restanti sono finanziamenti chirografari dove per chirografario può essere concesso per liquidità o può essere concesso anche per investimenti in particolare nel 2023 abbiamo avuto un incremento di richieste per investimenti e questo ci fa ben sperare vuol dire che l'imprenditore ha maggior fiducia nel futuro considerando rispetto al 2022 siamo passati da un 7% a un 13% di richieste per investimenti. Insomma è assolutamente una crescita interessante anche appunto per la prospettiva che racconta quindi di fiducia anche nel futuro nella possibilità di riuscire a rilanciare o a crescere rispetto a quello che è attualmente l'impresa artigiana. Andiamo da Mattinzoli. Esatto, ritorno da lei Mattinzoli volevo chiederle durante i lavori del convegno avete presentato il futuro di Artfidi con un progetto di sviluppo per i prossimi anni volevo chiederle se lo puoi illustrare e anche spiegare. Sì oggi è successo di tutto se avete visto perché anche il cellulare è rimasto senza batteria sono andato a cercare una prolunga ecco vede questo è il nostro metodo di lavoro di fronte agli imprevisti cercamo di trovare sempre una soluzione il nostro obiettivo se mi ricollego a quanto detto prima ovvero il tema delle aggregazioni è quello di guardare ovviamente più che al centro e sud Italia guardare alle due regioni che ci stanno accanto in particolare il Veneto dove vi sono numerosi confidi che sono ben gestiti di una taglia direi media tipo il nostro e che hanno tutte le caratteristiche per poter sviluppare il nostro progetto ovvero l'idea di insediarci in nuovi territori l'idea di scambiare esperienze tra il territorio Veneto e quello Lombardo l'idea di valutare anche nuovi prodotti perché ognuno ha delle caratteristiche peculiari ovvero quello anche di dare dei servizi accessori ovvero la valutazione dei bilanci valutazione di un progetto industriale delle imprese tutte cose che ognuno fa in un certo modo e magari meglio dell'altro e questo può ovviamente arricchire il tessuto dei confidi quindi l'obiettivo principale per noi è quello di espanderci verso ovest scusate verso ovest ovviamente e quindi è anche importante che la politica quindi nella prossima riforma dei confidi si preveda anche un cammino un cammino ovviamente che non porti subito al risultato ma che gradualmente faccia crescere i confidi minori per portarli anche ad un'aggregazione e questo significherebbe arrivare anche a far vigilare i piccoli confidi ovvero la vigilanza di Banca Italia in questi anni ci ha fatto crescere è vero che ci sono una serie di tante attività onerose e anche complesse ma questa complessità ci ha fatto molto crescere ci ha fatto crescere in qualità e nella valutazione anche del rischio sempre di più il futuro vede nuove forme di nuove attività parlo per esempio del DSG è praticamente la valutazione ambientale piuttosto che del carattere sociale piuttosto che della governance di ogni impresa alla quale saranno chiamate anche le piccole imprese ma perché questo? valutare queste attività significherà dare un valore all'impresa che si tradurrà in rating e a sua volta il rating si traduce in costi maggiori o minori del credito quindi noi stiamo lavorando affinché questo percorso che al momento non tocca le piccole imprese questo percorso venga gradualmente assorbito ovviamente con il nostro aiuto dalle piccole realtà imprenditoriali per essere pronte nel momento in cui la loro attività verrà valutata e quindi verrà valutata significherà quindi il costo del credito questo è il nostro compito quindi aiutare le imprese ad essere al passo coi tempi con le richieste del mercato e in buona sostanza crescere anche dal punto di vista qualitativo ecco quando si dice l'obiettivo è appunto far crescere anche a livello qualitativo un'impresa però in realtà essendo Artfidi una realtà di un certo tipo credo chiedo a Gabrielli se è così che ancora prima del bilancio dell'impresa o di quelle che sono le reali prospettive si guardi anche a chi la guida quindi all'imprenditore stesso anche a livello della persona sostanzialmente cioè voi avete lo dicevamo all'inizio questo tipo di approccio e di rapporto con gli associati giusto? Sì questo è l'approccio fondamentale è quello che possiamo dare in più all'istituto di credito che deve dare dei denari cioè la conoscenza dell'imprenditore noi sui territori dove siamo presenti abbiamo dei comitati tecnici che sono costituiti oltre che dai funzionari che fanno una valutazione di quello che è il bilancio anche da imprenditori che conoscono esattamente quello che è l'attività che viene fatta dal richiedente ecco perché ci possiamo permettere anche di garantire le start up noi l'anno scorso abbiamo su le nuove imprese che si sono iscritte da noi circa 250 nuove imprese il 27% erano start up quindi andare a finanziare un'impresa che sta nascendo con tutte le difficoltà che può avere lo possiamo fare solamente perché conosciamo a fondo quello che dicevo prima sostanzialmente la persona e credo che questo ce l'ha detto anche il Papa Emerito Benedetto XVI nell'enciclica Caritatis si inveritate leggo testualmente quando dice accanto all'impresa privata orientata al profitto devono potersi radicare ed esprimere quelle organizzazioni produttive che perseguono fini mutualistici Arfidi persegue il fine mutualistico e la conoscenza che può dare dell'imprenditore della persona è fondamentale per poter concedere la garanzia e quindi concedere il credito per spiegare ancora più nel dettaglio quando si avvicina a voi qualcuno che chiede aiuto sostanzialmente sostegno la trafila come comincia arrivano chiedono una mano e voi mettete in essere determinati passaggi sostanzialmente i primi almeno quando vi si avvicina qualcuno quali sono sicuramente tutta una serie di documentazione che viene chiesta ovviamente la cosa più classica è il bilancio l'iscrizione camerale e tutta una serie di documentazioni se deve fare l'investimento ma questa è la base per poter iniziare l'istruttoria poi ci sono i dati e questi sono i dati quantitativi diciamo ma il maggior valore viene dato al dato qualitativo che è quello che riguarda espressamente la storia e la vita dell'imprenditore Mattinzoli una cosa sola poi passiamo anche a vedere come fare a contattare Artfidi eventualmente una cosa sola la crescita esponenziale di cui parlava lei cioè l'inizio 50 anni fa 41 adesso decine di migliaia racconta anche un po' un'evoluzione globale di un sistema che è quello della piccola e piccolissima impresa in Italia che necessita però di avere come dire risposte anche queste più rapide possibili da istituzioni e da chi si occupa appunto di questo tessuto economico sì sicuramente oggi la celerità con la quale si danno le risposte fa la differenza nel senso che come diceva il direttore i tempi con i quali rispondiamo sono i tempi che ci fanno crescere sul mercato rispetto ad altri ecco sicuramente il fare confidi significa attenzione sui tempi attenzione sulle modalità e attenzione anche alle necessità dell'imprenditore è ovvio che quando non tutti gli imprenditori riescono ma anche perché l'attività non è facile da programmare un'attività artigianale capite anche voi che non è una cosa che si programma a lungo termine si può programmare a lungo termine la crescita non si può programmare a lungo termine le necessità finanziarie dell'impresa e quindi nel momento in cui viene chiesta viene questa la garanzia spesso si è già in ritardo ecco perché con la dimestichezza che abbiamo costruito con la qualità del servizio e dell'attività che abbiamo costruito in questi anni questo ci permette di fare la differenza significa che le risposte sono rapide ma significa già che sappiamo spesso come si diceva prima la storia dell'impresa che non è necessario ricostruire perché già la conosciamo sul mercato tante di queste imprese gran parte di queste imprese sono associate alle organizzazioni di categoria a cui facciamo riferimento casa artigiani Lombardia in primis nella sede di Brescia piuttosto che di Crema di Lodi di Varese insomma questa attività ci consente visto che tanti di questi imprenditori hanno la tenuta dei libri paga piuttosto che della contabilità presso le nostre organizzazioni di categoria di conoscere già da subito qual è la situazione finanziaria dell'impresa quindi questo è il nostro valore aggiunto e ripeto fare questo significa accorciare i tempi e dare risposte sempre più rapide ok invece volevo chiedere a Gabrielli sapevate come arfidi dei canali social dove le persone possono rimanere aggiornati sulle novità giustamente tu da giovane e dici certo prego sicuramente sì oltre il canale LinkedIn e Facebook abbiamo il nostro sito internet dove si possono trovare tutte le informazioni sugli istituti di credito convenzionati e sulle possibilità e i vantaggi che si possono ottenere attraverso magari dei bandi che in tempo reale escono e vengono pubblicati bene abbiamo finito abbiamo finito per quanto riguarda però questa puntata perché ovviamente poi ci sono tante altre sfaccettature del mondo dell'artigianato di cui dobbiamo occupare prossimamente una in particolare è quella degli accordi tra associazioni di categoria e sindacati che anche nell'artigianato sono importantissimi e quindi la bilateralità detta così sarà uno degli argomenti di cui ci occuperemo a breve grazie Carolina per stasera ringrazio i nostri ospiti Enrico Mattinzoli Presidente di Artfili Lombardia e Francesco Gabrielli Direttore Generale Artfili Lombardia e tutti i nostri telespettatori buonanotte a presto a presto a presto a presto